Buongiorno a tutte e tutti, la sessione è cominciata un po' così oggi, va un po' così alla romana, mi ritrovo a coordinare un panel che per la metà ha già parlato, ma queste sono cose che succedono in Italia, non è un problema, siamo gente flessibile e le motivazioni per parlare prima sono giuste, sono più che plausibili, quindi tra assenti e chi ha già parlato avremo un panel un po' diverso, però vorrei partire da alcuni punti abbastanza essenziali, io mi chiamo Nicoletta Dentico, mi presentano come giornalista, ma io in realtà non faccio la giornalista, io da 20 anni, anzi dal 1999 mi occupo sistematicamente di sanità, di politiche sanitarie, cosa che non ha niente a che fare, scrivo ma non faccio la giornalista e lavoro sulle politiche della salute, ovviamente occupandomi molto anche del mio paese ma con uno sguardo internazionale. Vorrei ribadire che questi dibattiti sono di fondamentale importanza ed è così, questo è il secondo, è stato già detto all'inizio ed è veramente un peccato che nel momento in cui si vuole l'interlocuzione con la politica sia sempre così fugace, sia sempre così aneddotica, fugace, veloce e non ci sia diciamo se non raramente il tempo per un racconto e per una condivisione profonda delle cose perché dietro i numeri, dietro quel 1,2 numero di posti letto per mille abitanti non ci sono i numeri ma ci sono le vite delle persone e quindi vorrevo fare alcune considerazioni, permettetemi di fare alcune considerazioni di così diciamo una sorta di prologo emotivo. Allora innanzitutto chiamo il professor Villari a venire qui con noi al tavolo, sì assolutamente sì professore mi sono presa il bezzo di metterla accanto a me perché come l'onorevole Quartini anch'io sono figlia sua e quindi ci tengo, siamo tanti a essere figli suoi. Figli e figli suoi. Tutti abbiamo studiato. Allora la cosa importante è che quando Miguel Gotor fa la sua disamina, interessantissima disamina storica su come la salute tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento è stata, come dire, è diventata il terreno anche di quel patto fra Chiesa e Stato, è interessante perché appunto la salute ha spiegato un dato che ancora oggi è estremamente reale e poi il professor Villari come dire entrerà nello specifico. La salute è stata sempre storicamente al centro degli assetti diciamo istituzionali e costituzionali, è sempre stata al centro perché è quel territorio dove alla politica si unisce il diritto alla vita perché poi alla fine quando parliamo di salute non stiamo parlando di diritti sanitari, stiamo parlando del diritto alla vita e quindi naturalmente tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento nel momento in cui in Europa imperversavano un sacco di problematiche sanitarie, la peste che è stata citata, si stava cambiando il mondo e con questo anche le sfide sanitarie comparivano con una dimensione che era inusitata per quei tempi, la salute diventa il territorio di negoziato. È stato così anche con la creazione del dopoguerra, con la creazione delle Nazioni Unite, noi oggi celebriamo, fra alcuni giorni celebreremo due date importanti, i 75 anni della carta dei diritti umani, della dichiarazione fondamentale dei diritti umani, 75 anni, celebriamo quest'anno i 75 anni del diritto alla salute, ne parlerà il professor Villari, che guardate è stato il primo diritto costituzionalizzato, il diritto alla salute è entrato in vigore come diritto vincolante 75 anni fa, 7 mesi, 8 mesi quasi prima della dichiarazione fondamentale dei diritti umani che vincolante non è, quindi la salute è stato il primo diritto cogente a cui oggi 194 paesi sono obbligati, per favore se si può uscire, se si fanno conversazioni, scusate, scusate, no, niente, va bene, andiamo avanti, sì perché non è, scusate se dovete fare conversazioni è meglio uscire per educazione, grazie, e quindi la salute è un tema centrale, il tra dicembre avremo anche i 45 anni del servizio sanitario nazionale, la legge 833 di cui parlava appunto prima l'onorevole Quartini. Quindi fare queste conversazioni è fondamentale ed è uno dei grandissimi drammi di questo paese che mentre in Inghilterra da dicembre ci sono scioperi che continuano su questa cosa, mentre in Germania l'istituto Charité a Berlino è riuscito a fare 11 settimane non stop di scioperi, mentre in Spagna si riempiono le piazze a Madrid sul diritto alla salute contro la privatizzazione della salute, in Italia non succede niente e quando si fanno questi dibattiti siamo i soliti addetti ai lavori, quindi mentre in Francia si chiedono ma perché siamo riusciti a portare solo 3 milioni di persone sulla sanità quando siamo più di 40 milioni di persone come paese, queste sono le domande che si fa alla Francia, in Italia ci chiediamo ancora del perché siamo così pochi ancora a discutere di salute e guardate tra il 500 e il 600 noi in quel periodo nel 500 abbiamo avuto il sacco di Roma, chiaramente Oliva Salviati ha parlato dell'attuale sacco di Roma, il sacco di Roma continua, il sacco dell'Italia continua, l'hai detto benissimo e il sacco di Roma appunto è esattamente come ha detto Oliva Salviati dare, svendere, regalare, cedere, beatamente da idioti proprio con una sorta di beata idiozia, i gioielli di casa, il patrimonio più grande, la storia, i luoghi dove c'è il genius loci di questo paese, di darli agli speculatori che naturalmente non hanno nessun interesse per quei luoghi se non per estrarne il massimo dei profitti. Ora io mi chiedo che popolo è quello, come dire, c'è questa retorica nazionale, il popolo, ma che razza di italiani siamo diventati? Se riusciamo a, come dire, beotamente appunto cedere tutto questo senza neanche renderci conto che poi è difficile farlo tornare in un tempo del neoliberismo dove evidentemente la funzione pubblica è stata talmente svuotata che ha proprio perso il senso di sé, si autoprivatizza prima ancora che glielo impongano gli speculatori, ormai la funzione pubblica è completamente assoggettata, ha interiorizzato il fatto che il mercato sta sopra tutto. E guardate, questo non è una questione di questo governo, anzi le grandi responsabilità di tutto questo stanno nel centro-sinistra, stanno tra coloro che dovevano essere, diciamo, così, coloro che i tutori, o almeno nella loro narrazione, i tutori dei diritti, dei diritti umani, no? In realtà hanno ceduto tutto. Dopo la fine del crollo del muro di Berlino si sono sentiti così orfani di una sponda che hanno preso il neoliberismo con il pericolo di ammantarlo di quella narrazione suadente o pseudosuadente che tutto sommato si poteva controllare. Hanno perso completamente il controllo. A tal punto, e lo dico avendo parlato con alcuni rappresentanti della segreteria di Ellis Line, che perfino Bonaccini è convinto che l'autonomia differenziata sia da fare perché così lui la controlla. Povero, 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 non lo so come definirlo, no? Quindi il problema è profondo. Il problema è profondo. E vengo ai miei studi, alle mie letture, alla mia ricerca internazionale perché la cosiddetta autonomia differenziata, come la chiamiamo noi, è una delle matrici fondamentali che il neoliberismo, è una delle ricette che il neoliberismo vuole imporre alla salute. Noi del resto ce l'abbiamo già, questa sorta di autonomia differenziata in salute. La sanità, come sempre, come sempre, se da una parte la salute è quel territorio così importante per la costruzione degli assetti istituzionali, la salute è anche un grandissimo territorio di sperimentazione dei nuovi assetti che si devono costruire. Il neoliberismo è stato straordinario accogliere che la salute era il territorio su cui si doveva cominciare perché se passa lì, se passa sulla salute, allora il campo è aperto su tutto il resto. E infatti è dalla fine degli anni Ottanta che fanno questo. La salute è il viatico per poi introdurre le politiche neoliberiste in tutti gli altri settori. E siccome se passa sulla salute, e sulla salute passa, la salute passa perché ormai è visto come un costo, perché i ministri della salute non contano granché, non hanno neanche portafoglio, perché invece della salute positiva, cioè di quel concetto di cui parlava Quartini prima, della prevenzione, della promozione della salute, della visione non meramente ospedaliera e curativa della salute, hanno invece costruito la salute secondo le malattie. Ormai i nostri ministri non sono più ministri della salute, sono ministri delle malattie, devono gestire le varie malattie, malamente peraltro. Allora la devoluzione, l'autonomia differenziata, chiamatela, ci sono molti nomi per definirla, è una delle principali ricette che il neoliberismo propone per la sanità. Perché? Perché se tu togli la possibilità strategica a un governo, già precaria guardate bene, ma comunque se tu togli la possibilità di una visione nazionale sulla salute e la spappoli, la spezzetti, questo dà un agio incredibile alle famose lobby di cui si parlava prima, impedisce, come dire, esaspera ulteriormente la simmetria tra poteri, perché un che è se una big, una multinazionale ha a che fare con uno Stato che è un investitore, il migliore investitore che gli può capitare a uno Stato quando compra le medicine, perché è un investitore di lunga traiettoria, è un investitore importante, se tu lo spezzetti questo, il potere contrattuale dell'investitore si spappola anch'esso, non c'è la competenza per gestire questi grandi negoziati contrattuali con i vari grandi holding che ruotano intorno alla salute. Quindi dobbiamo saperlo che l'autonomia differenziata è una delle matrici fondamentali con cui si vuole ulteriormente depauperare, spappolare, questa è la parola, la funzione pubblica, i cui effetti abbiamo visto durante la pandemia in sanità e ribadisco quello che è stato detto prima da Miguel Gotore, è incredibile che siamo alla fine del 2023 e abbiamo già completamente rimosso tutto, mentre naturalmente non sono in Italia, dopo quella pandemia i sistemi sanitari non solo nel sud del mondo ma anche nel nord del mondo, per me che mi occupo di mondo e che mi sono occupata tantissimo del sud del mondo, oggi il mio sguardo è più verso il nord, perché se il nord del mondo che ha avuto sistemi sanitari universalistici, gratuiti, pubblici, non ce la fa, figuriamoci come potranno mai in questo tempo di deregulation finanziaria riuscire a costruire qualcosa ai paesi del sud del mondo. Quelli che ci hanno provato fra l'altro sono gli unici che non hanno avuto guerre negli ultimi 40 anni, 50 anni. Chiudo, perdonatemi, ma è importante fare questi raccordi perché abbiamo delle sfide enormi davanti a noi. E allora apro il lavoro di presentazione delle persone che sono qui al panel è stato già fatto da Antonella, quindi do la parola a questo punto a Linda Sandulli che così elabora da un punto di vista anche vicende che ha dovuto affrontare la questione della sanità pubblica, della sanità che dobbiamo riprendere in mano per difendere perché è da lì che passerà la prospettiva di un futuro, diciamo, di salute per questo paese, così come è stato in passato. Grazie. Prego. No, no, salute, per me salute significa tutto questo. Cioè non pensiamo, scusami Linda, non pensiamo che in Italia l'aumento dell'attesa di vita e lo sviluppo economico e sociale di questo paese sia arrivato attraverso la dieta mediterranea o attraverso chissà che cosa. È stato il servizio sanitario nazionale che ha fatto dell'Italia il paese che ha potuto fare il balzo in avanti che ha fatto. Non ci sono assolutamente storie. Quando parliamo della salute parliamo di sviluppo sociale ed economico di un paese. Io sono, lo diremo dopo, non ho questa visione medicale, medicalizzata della salute. È contrario. Grazie.